Siamo a Sanremo, Radio Bruno Allora, mi ha detto che non mi posso inchinare Io ho una vocale che suo papà avrebbe voluto darle, ma lei ha una voce incredibile, Giorgia! Ma grazie cara, grazie Giorgia! Quindi la canzone di Recharts, tu capito, in pieno, è più per te che per me Lo sai che mi hanno detto che mio padre mi disse che l'aveva scritta per me Recharts? Ma dai! Sì, mi ha mentito E ci hai creduto? Ci ho creduto e poi quando ero più grande mi dice ma che ci hai creduto? Ridendo, io lì ho saputo che non era vero, ho capito? Comunque è veramente una canzone stupenda che però ha definito anche un po' il tuo ambiente, il tuo modo di cantare Sì, sì, perché quelle sono ispirazioni che comunque ti entrano un po' sotto pelle Tu in qualche modo lo sai, quando ascolti, ascolti poi riproduci qualcosa Senza neanche renderti conto che stai attingendo al tuo bacino di conoscenze, di cose che hai ascoltato durante la vita Io ho avuto la fortuna di avere in casa tanta musica black soprattutto perché mio padre aveva proprio una fissazione Tutt'ora ce l'ha, poi ho scoperto che esisteva anche dell'altro, mi sono fatta la mia cultura musicale Perché poi tutto serve nella musica secondo me, non bisogna mai fossilizzarsi su un genere solo Ma infatti so che tu sei molto generosa e anche attenta in questo festival perché ascolterai tutte le nuove produzioni, tutti i nuovi cantanti Anche per trarre spunto Ma sì, è importante sapere quello che succede perché poi è un bene per tutti, credo Soprattutto quando vengono fatte delle cose che non ti aspetti, nuove, diverse È un bene per tutto il movimento musicale perché ci siamo dentro tutti, sono ispirazioni che ci fanno bene a tutti Partiamo dal titolo della tua canzone Sì Ma poi nella vita le fai le gaff, dici parole sbagliate nel momento sbagliato No io sono la regina delle gaff Sicura? Guarda che anch'io Deve essere il nome allora, non ci frega Quando ci sono quelli signori belle curvi L'hai fatto anche te? Cioè hai detto che bella pancia non era incinta È volata fuori, non riesci a trattenerla Ma io pure, ma io anche con una certa gioia Sì Quella è stata la peggiore secondo me, ne ho fatta pure un'altra bruttarella Perché ho scambiato un rapper per un manager Cioè era un manager, io sono andata a dirgli quanto mi piace, come scrivi sei brevissimo E lui mi fa ma no ma non so io Ma si può dire chi era? Era mostro il rapper Ok E il signore era un altro signore che mi ha detto guarda che non sono proprio io E io mi ha detto no E secondo me questa ha superato quella della signora incinta Sì sì E poi sbaglio i nomi Meraviglioso Ma me ne ricordo uno, non so tu Ciao caro, ciao tesoro Sì no i nomi, le facce me le ricordo ma i nomi no Certe figuracce Torniamo seri Seri Al festival come dice E diceva Baudo ha sempre detto festival Festival Eh Io sono pro Baudo come lo dice Ma la vita grazie a Pippo e su SRM ti è cambiata da così Così da un giorno all'altro Infatti lo penso molto in questi giorni Perché comunque i miei ricordi sono pieni di voci Di momenti, di sensazioni, di luci particolari E quindi insomma ripasseggiando qui per la città Entrando in teatro mi torna un po' tutto in mente E beh Pippo con me è stato molto generoso Anche molto attento Nel senso che mi ha proprio Mi ha aiutato a scegliere la canzone Ci teneva Ma lui non è che l'ha fatto solo con me Lui veramente come fa anche Amadeus Teneva proprio alla composizione del cast Un direttore artistico deve fare così Deve essere dentro il progetto completamente Giusto che sia così Ed è anche un gran mazzo Però qualcuno Deve fare Ai tempi però ti godevi proprio poco Sanremo e i contorni Invece sei un po' più rilassata Ma sì insomma diciamo che Allora quando sei sul palco Quel palco è magico, misterioso Quindi finché non sei lì C'è la tensione, c'è il voler far bene Però rispetto a tutto quello che c'è da fare Me la godo un po' di più Insomma quando ero pischella Ventenne ero tipo Che devo fare, dove devo andare Molto più ansiosa se vuoi Ma anche ai tempi miei Non è che ci dicevano poi Adesso andiamo a fare Radio Bruno Ci prendevano e ci portavano Fai quello, buttati lì Fai così Adesso partecipi anche di più Anche con il tuo sentimento Insomma che te la godi di più È più bello Senti a proposito di ansia Bella è la scenografia Ma sempre queste scale Io non lo so Io bisogna fare una petizione Una petizione per dire Anche meno scale Adesso io capisco che scenograficamente Sono belle Ma meno Tre? Cinque? Vogliamo farne cinque? Larghe, ruvide Devo dare dei consigli Su come fare le scale Ultimissima domanda Forse una delle più importanti Perché torniamo indietro Il 2001 C'era Elisa Sul palco c'eri tu E farete un duetto strepitoso Sì Io ho pensato subito a lei Però gliel'ho chiesto anche con una certa Cioè Ho pensato Lei ha fatto un anno eccezionale È stata in gara l'anno scorso Magari Non le andava Quindi ho detto Se non ti va Non ti preoccupare Ovviamente fra noi Ci possiamo dire tutto Non c'è problema Dico però io vorrei fare Di sole d'azzurro e luce E lei secondo me Lì ha detto Sai che c'è Mi va Perché comunque ci piace Cantare insieme Perché è un momento Anche della nostra vita Che vorremmo anche un po' restituire Al pubblico Per tutto quello che ci ha dato In questi vent'anni Grazie mille E voglio mandare un messaggio In conclusione a tuo figlio Noi ti fiamo la mamma Ciao Core Ciao Giorgia Grazie mille Grazie a te A voi Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo